Ecco sono arrivata in camera e io da qui non mi muoverò più. Vedete questo? Con l'aria condizionata a tavoletta io mi metterò lì e da lì non mi muoverò più perché non è una cosa, è proprio che non si respira, sembra di stare tipo in Africa, proprio si boccheggia. Noi stiamo andando tutti e tre dal parrucchiere, mia mamma si è nascosta, mamma vedi, si è nascosta. Andiamo dal parrucchiere, mamma tu cosa fai nel parrucchiere? Allora io vi farò un trattamento, un trattamento innovativo, un trattamento chiamato innamigazione. Vabbè poi vi faremo vedere dopo, e niente stiamo andando, quindi tutti e tre oggi. Ma a dire il vero sono tutti dal parrucchiere oggi perché sono andati loro tre, ma c'è nata anche Greta, ci vediamo al prossimo video, ciao!